oggi come potete vedere dall'inquadratura andremo a sfogliare insieme la nuova agenda miss networker che mi è appena arrivata e sapete che ogni anno ormai facciamo questo unboxing chiamiamolo così anche se la box in questo momento non c'è già più comunque l'agenda arriva con la busta del corriere all'interno c'è l'agenda che confezionata con carta pacco e con l'adesivo miss networker e poi si presenta in questo modo come l'anno scorso c'è questo che io utilizzo come segnalibro il ringraziamento dell'acquisto con tutti i contatti e dietro come al solito c'è una frase motivazionale credici perché nessuno lo farà al posto tuo l'agenda di quest'anno come potete notare è molto diversa da quella del 2020 perché sono tornati gli anelli ed è veramente spessissima ma dal vivo solo uno si può rendere conto anche perché quest'anno è giornaliera quella del 2020 era settimanale quindi tutti i giorni erano divisi in due paginate invece in questo caso siamo tornati al giornaliero e devo dire che sono molto contenta perché ultimamente lavorando molto di più posso segnare ancora più cose prendere più appunti scrivere informazioni appuntamenti eventi eccetera a differenza della prima edizione la copertina come potete sentire è cartonata bella rigida sia davanti ovviamente che dietro e si presenta in questo color direi pelle un rosa molto tranquillo c'è la chiusura con elastico bianco e adesso andiamo a vedere un po come si presenta ecco qua come ogni agenda c'è tutta la presentazione di noi stesse di chi è con i nostri contatti e qui come al solito c'è un po di descrizione viene un po raccontata che cos'è l'agenda miss networker per chi è rivolto vengono dati dei consigli come è strutturata all'interno si parte poi con tutto il calendario 2021 sempre suddiviso in diversi colori per andare poi a recuperarli una volta mese per mese il bello di questa agenda è anche il fatto che ha molti colori per attrarre per cercare di aiutare anche molto nel lavoro può essere un dettaglio non troppo importante invece è importantissimo soprattutto per la visuale tenere d'occhio tutti i nostri appuntamenti tutte le nostre cose quindi anche il fatto che sia colorato con specifici colori è stato detto è stato tutto studiato ogni cosa è studiata al minimo dettaglio c'è anche una panoramica del 2022 ma non inoltriamoci troppo abbiamo la vision board a forma di fiorellino composto da diversi cuoricini e poi si parte con una parte di note il mese di gennaio ogni mese ha un tema specifico ora ovviamente ve li mostro tutti alla veloce gennaio è il mese della motivazione anche perché bisogna iniziare al meglio l'anno e qua c'è il suggerimento della motivazione vedete c'è questa parte informativa qui abbiamo gli obiettivi del mese con il mese gennaio formazione, salute, personale, lavoro mentre qui abbiamo qual è il tuo obiettivo primario da raggiungere entro fine mese perché lo fai quali strumenti necessiti affinché i tuoi obiettivi si realizzino quali azioni devi compiere ricorda di aggiornare ogni giorno la lista focus guardate che bello tutto colorato, bello allegro come al solito abbiamo la parte delle finanze con le uscite e le entrate che trovo comodissimo io la sfrutto sempre tantissimo purtroppo è sempre più la parte delle uscite che è più lunga ma va bene poi qui abbiamo la parte dedicata ai nostri collaboratori a chi fa parte del nostro team chi abbiamo contattato da dove e se hanno avuto un esito positivo o meno qui abbiamo la tabella clienti la tabella ordini questi vado veloce perché ho fatto proprio il video specifico sui due quadernini dedicati uno al team e uno ai clienti quindi poi ve li lascio nella i però chi non ce l'avesse comunque ha già queste tabelline molto utili nell'agenda che poi secondo me se uno non vuole comprarsi i due quadernini si fa le stampe in bianco senza compilarle poi man mano se le va a compilare e qua inizia il mese ogni mese ovviamente è fatto in questo modo con la sua colorazione ogni giorno in questo caso c'è una frase motivazionale e come è strutturata la pagina allora qua bisogna segnare il giorno perché il bello dell'agenda Miss Networker anche se all'inizio al prospetto dell'anno che verrà quindi il 2021 si può utilizzare quando si vuole anche se lo si usa in un anno che non è quello scritto sull'agenda va bene lo stesso perché qua te lo vai a datare qua devi scrivere il focus del giorno ti leggi la tua frase motivazionale per dare carica alla giornata quest'anno è stata aggiunta questa parte questa parte l'orario così che ognuno possa segnare alla talora l'evento l'appuntamento, la zoom, quello che è qui la compilazione del giorno e qua le varie note alla fine c'è scritto per cosa sono grata oggi perché è molto importante fare la gratitudine passiamo a febbraio l'argomento di febbraio è il focus quindi qua viene un po' spiegato il focus che cos'è e poi solito in questo caso è sui toni del rosa perché è il mese di San Valentino e poi non stiamo a guardare perché alla fine poi è uguale giorno per giorno mi sono dimenticata però di dirvi che a ogni fine mese c'è una pagina di note e poi il riepilogo del mese vedete il review di fine mese ciò che mi rende più orgogliosa del mese passato per cosa sono grata cosa ho imparato cosa devo migliorare perché sappiamo che sempre si deve migliorare qua c'è il prospettino delle nostre statistiche quindi andiamo a compilare con il fatturato i nuovi collaboratori, i nuovi clienti le riunioni svolte, il guadagno la percentuale dell'attività e della crescita e poi altra paginata di note il mese successivo marzo dedicato al time management piccola descrizione e via andare guardate qua marzo il mese della primavera tutto a fiorellini passiamo ad aprile che è il mese della creatività maggio la venditrice top e che belle sono queste grafiche cioè sono sempre meravigliose sempre diverse ogni anno giugno la gestione degli obiettivi giugno il mese dell'estate quindi le stelle marine il colore del mare luglio lo smart working perché lavorare nel network marketing è come fare smart working è smart working è il mese dei gelati del caldo agosto relax e lavoro perché se si fa un'attività online la si può fare sempre ovunque quando si vuole è davvero una cosa meravigliosa e guardate che meraviglia questi fiorellini settembre guarda il tuo giardino perché bisogna sì seminare ma poi anche andare a raccogliere i risultati settembre il mese dell'autunno e quindi le foglie e i colori tipici ottobre impossibile e solo per chi lo pensa esattamente e anche qui ci sono i colori proprio autunnali con le foglie che cadono novembre i preparativi già per il periodo natalizio gestione del natale perché iniziano nelle varie aziende ad esserci le promo per prepararsi ai regali di natale quindi già andiamo a pensare a queste cose ultimo mese dicembre ricordare fa bene all'animo e qua con tutte le palline le decorazioni del natale ecco qua una volta finito anche l'ultimo mese dell'anno dopo la review di fine mese c'è la parte delle note di cui ci sono di nuovo i ringraziamenti cosa che ha aggiunto quest'anno all'agenda è il fatto della taschina molto importante perché non so voi ma io ho sempre mille fogli mille appunti cose sparse che sì ho sempre inserito normalmente nella mia agenda però adesso grazie a questo posso star tranquilla che non vado a disperdere nell'ambiente pezzi di fogli che poi non trovo più e voilà questa è la mia nuovissima agenda per quanto riguarda il mio lavoro e sono super super contenta non vedo l'ora di andarla a compilare spero che questo video vi sia piaciuto sia stato utile se volete acquistarla basta andare sul sito internet proprio Miss Networker o comunque nel motore di ricerca la trovate sicuramente io vi auguro un buon inizio anno un buon 2021 ricco di guadagni ricco di felicità ricco di tutto io vi saluto e ci vediamo prestissimo con un nuovo video ciao 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 Grazie.